Buongiorno, le rispondo dal servizio assistenza psicologica in videochiamata per i cittadini in quarantena. Come va? Cosa stava facendo per trascorrere il tempo? Mi scusi, ma come mai si trova in quella posizione? Ah, si stava annoiando. Eh, lo so, capita a tutti, mi creda. Ma proviamo a pensare a qualcosa di bello. Dopo la quarantena, cosa le piacerebbe fare per prima cosa? Una bella mangiata. Ah, no, no, capisco, ha già mangiato molto durante questo lockdown, certo. Ho capito, una donna, una donna. E se incontrasse una donna interessante, cosa le direbbe? Lei non è di molte parole. Su, non sia timido. Ah, però, la vedo in forma, continui così, la saluto, arrivederci.